L'amore oggi nel 2002 un apparecchio momentaneo infilato sotto il petto forse perché da quella data di settembre è aumentato il senso corrisposto del sospetto dal cielo arrivano le bombe garantite e intelligenti che feriscono i sopravvissuti e comunque crea anche arie ai denti che vita! Ah, puoi dirlo? sento sempre il peso di un controllo appeso al collo che vita! Si direbbe fuori dal contesto su nell'universo, nello spazio infatti è forse un po' per punizione che ci batte in testa il sole e nonostante la tettoia non credo che nessuno ormai si stupirebbe se un bambino gli chiedesse a cosa serve una grondaia a cosa servono i palloni incastrati sotto le marmite a ricordare quando fuori si giocava fra le 127 che vita! Ah, puoi dirlo? sento sempre il peso di un ricordo appeso al porto che vita! Pietro Menea e Sara Simeroni sono rivali alle elezioni però sul ponte fra Messina e Reggio gli operai aggettoni sono progettati dalla Sony alla mafia andato in cambio un tamagogi e il monopolio nazionale del settore videogiochi e mentre inaspettatamente comincio a perdere i capelli ho visto in giro i miei gemelli pettinati ancora uguai, uguai che vita! a puoi dirlo sento sempre il peso di un controllo atteso al mollo che vita! si direbbe fuori dal contesto sull'universo nello spazio che vita! a puoi dirlo sento sempre il peso di un ricordo atteso al conto che vita! Pietro Menea e Sara Simeroni sono l'Italia che vita! a puoi dirlo a puoi dirlo che vita! che vita! Grazie a tutti Grazie a tutti